Grazie. Stavo dicendo, propongono una, ci sono stati diversi motivi e li abbiamo elencati, i motivi tra cui quella di dover realizzare gli impianti a livello municipale, per il multimateriale, per l'organico, stiamo parlando di decine di impianti. Dall'analisi che abbiamo fatto noi in questi anni non abbiamo tutte queste possibilità di realizzare impianti per i problemi urbanistici che ci sono a Roma. Stamattina c'è stato questo convegno, ho partecipato, ho ascoltato con molta attenzione, faremo degli approfondimenti perché è ovviamente importante. Ora, con il Presidente Diaco stiamo facendo un lavoro, un gran lavoro anche in Commissione Ambiente per quanto riguarda la food policy, la delibera che è stata citata dalla, dai ragazzi di Friday for Future, ne abbiamo discusso in Commissione, per cui vogliamo che questo lavoro vada avanti e ci auguriamo che entro la fine della registratura assolutamente si arrivi a questo lavoro. Ultima battuta, scusate ma l'argomento è veramente vasto, per cui il PAESC è un altro documento importantissimo, avremmo dovuto presentarlo ad agosto, come ha detto correttamente il collega Fassina, c'era stato uno spostamento da gennaio ad agosto e ora c'è un altro spostamento in avanti perché oggettivamente tutti i lavori, tutte le difficoltà che ci sono state ultimamente ha fatto sì che non si è arrivati alla conclusione di questo documento, ma è un documento importante. Io con molta sincerità, tendo ad essere molto sincero quando faccio i miei interventi, non credo che saremo in grado di poterlo presentare nel giro di un mese, anche perché andiamo incontro alle delibere di bilancio, ma anche per le difficoltà che un documento così articolato sullo sviluppo e l'idea della città nei prossimi 20-30 anni da un punto di impatto ambientale, io però mi auguro che entro la fine della legislatura questo documento sia assolutamente approvato. Ringrazio tutti per questa importante discussione che stiamo facendo.